Buonasera, devo cominciare io? Devi cominciare te, devi cominciare lei professore. Buonasera a tutti, voi ci conoscete, io sono Alessandro Balbero, lui è Davide Savelli, chi sente il nostro podcast ci sente tutti e due e vorrei chiarire subito che quello che vi aspetta questa sera non è un incontro col pubblico nelle forme tradizionali, non solo non è una conferenza o una lezione, ma in realtà io non parlerò neanche a voi, io parlerò con lui. Perché questa è la registrazione di tre puntate del nostro podcast, come dire, magari sbrodoleremo un po' di più di quello che facciamo di solito, tanto poi si taglia e si monta. Però in realtà appunto quello che voi vedrete, ecco è come se voi fosse, come dire, dietro il buco della serratura, noi ci troviamo ogni tanto a registrare un certo numero di queste puntate e questo è quello che voi vedrete. Quindi mi scuserete se io, contrariamente a quello che faccio di solito, non verrò qui al microfono a parlare a voi vedendovi in faccia, poi magari mi scapperà di farlo, ma normalmente noi due parleremo come se fossimo da soli, come quando registriamo. Sono tre puntate, abbiamo fatto almeno lo sforzo di vedere se ci potrebbe essere un filo conduttore per collegarle queste tre puntate e sapete che ogni puntata del podcast parte dal principio che nell'immensa marea di domande che riceviamo, Davide ci lavora su e individua un nucleo di tre, quattro, cinque domande su uno stesso argomento, in modo che ogni puntata abbia un tema e anche un titolo del resto. Stavo per dire che quello lo fa lui, sì, tutto fa lui in realtà, è questo podcast, che sia ben chiaro e lo vedrete bene anche adesso. E così è lui che a un certo punto ha detto, ma sai che ci sono molte domande sul tema del pane, della storia del pane, quando l'uomo ha inventato il pane. Evidentemente il pane continua a essere una cosa, anche se ne mangiamo in realtà poi non più tanto come i nostri antenati, ma continua a essere una cosa che ci colpisce. Pane. Poi un'altra cosa, sorpresa, che ci colpisce è l'amore, se ne parla. Abbiamo avuto tante domande sull'amore nella storia, si intende, è sempre la chiave, è sempre quella. E allora è chiaro che ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti, ma certo, pane, amore, fantasia, dai, fantastico. Lo sapete quasi tutti, è uno dei grandi classici del cinema italiano degli anni 50, film di Comencini del 53, credo, sì, ecco, con Gina Lolo Brigida, oltre che con Vittorio De Sica. E allora, e siccome è giusto fare le cose come sono giuste, io me le ho anche scritte, e l'ha fatto Comencini con Margadonna, grande sceneggiatore di quei tempi. Allora, pane, amore, fantasia, fantastico, basta trovare le domande sulla fantasia. La fantasia non interessa a nessuno, non c'è nessuna domanda sulla fantasia, quindi abbiamo dovuto rinunciare, però a quel punto ci piaceva troppo l'idea. E invece ci sono diverse domande sul tema della meraviglia, declinato in vari modi. E quindi alla fine abbiamo inventato questo ibrido. Ci siamo detti, a titolo di giustificazione, che in fondo tra la fantasia e la meraviglia un qualche nesso c'è, e che ci vuole fantasia per meravigliarsi comunque. Chi non ne ha non si meraviglia neanche di niente, credo. E insomma, morale, il titolo è quello che vedete, e adesso noi procederemo come procediamo di solito. L'unica cosa che non farò sarà di dire, eccoci qua, cuffia, microfono, siamo pronti, Davide, qual è l'argomento di oggi? Però detto questo, noi adesso procediamo come facciamo di solito per creare una parola grossa, insomma, va bene, dai, per realizzare una puntata del podcast. E allora, professore, io comincerei dal primo elemento della nostra trilogia, il pane, con una domanda che ci è arrivata proprio da Torino, da Alessandro, che dovrebbe essere anche in sala, non siamo sicuri. Eccolo là, ciao Alessandro. Dove, 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 dove? Per comodità la riassumo io, la tua domanda. Alessandro si è sempre chiesto come sia stato possibile che l'essere umano inventasse una cosa così semplice, ma così complessa come il pane. Come può essere nata l'idea di macinare i semi del grano fino a ridurli in polvere, di mischiare la farina con l'acqua e di cuocere l'impasto per renderlo digeribile? Alessandro ha scritto anche, grazie mille per il podcast interessantissimo, eh, sia chiaro. Avevo sintetizzato io. Le domande che contengono complimenti passano prima delle altre, di solito. Riveliamo anche questa cosa, eh. E riveliamo anche quest'altra cosa che voi non sapete se ci ascoltate, naturalmente. Che io sembra che vada giù sparato dicendo cose che ho sempre saputo fin da quando ero bambino. In realtà io ho 50 pagine di scaletta sotto gli occhi e le cose che dico le ho cercate e le ho messe insieme e le ho qui. E senza questo sarei perduto. Detto questo, il pane. C'è una parte di questa domanda a cui in realtà sarà molto difficile rispondere. E cioè, come è stato possibile che ci arrivassero? Perché su quello, come dire, nessuno ce l'ha raccontato. E tutti noi, credo, di fronte a tante invenzioni, ma specialmente quelle più antiche. Ce lo siamo detti, eh. Ma tu pensa che questi qua a un certo punto hanno scoperto che quella roba lì era commestibile. Però era commestibile, però bisognava macinarlo e farne farina. Quando la farina non esisteva e loro l'hanno inventata. E poi la farina bisognava impastarla con l'acqua. E poi bisognava... E com'è possibile? Alessandro, non lo so com'è possibile. Evidentemente siamo una specie che ha avuto un migliaio di anni per riflettere su queste cose. Noi non sappiamo neanche se il pane l'ha inventato una singola persona geniale, donna o uomo che fosse. E poi via via la cosa si è diffusa. O se invece è stato inventato, come a volte succede, eh. Le cose vengono inventate. La scrittura, mica l'ha inventata qualcuno in un posto solo. Nel Mediterraneo l'hanno inventata e i cinesi se la sono inventata per conto loro. Il pane però, quello che si può dire, è che è un po' cambiata l'opinione che hanno gli studiosi sulla nascita del pane. E quando cambiano le opinioni che noi abbiamo su cose così lontane nel tempo, è sempre perché ci sono gli archeologi che hanno trovato qualcosa di nuovo. Il pane, chiariamolo subito, è stato inventato molte migliaia di anni fa, molto prima della scrittura. Il che vuol dire che noi non abbiamo nessuna informazione scritta della gente che ha inventato il pane. Però abbiamo risultati, come dire, degli scavi archeologici. E l'archeologia ha questa caratteristica, anche leggermente inquietante, eh. Che quello che era vero dieci anni fa, all'improvviso si scopre che non è vero niente. Perché c'era una datazione e poi hanno trovato una cosa di mille anni prima. E quindi è sempre molto provvisorio tutto quello che tu credi, compreso quello che diremo adesso. Però ecco, sostanzialmente, fino a un po' di tempo fa, si diceva, si associava molto la produzione della farina e del pane con la coltivazione dei cereali. E quindi si diceva, va bene, c'è stata una grande svolta. Questo l'abbiamo tutti studiato anche nei manuali scolastici, perché è una cosa che è piaciuta molto. Prima gli esseri umani erano cacciatori, raccoglitori. Andavano in giro a cacciare il cervo o raccoglievano le bacche e poi a un certo punto hanno scoperto che si può stare fermi in un posto, così hai una capanna finalmente, anziché una tenda, ecco, hai una capanna e coltivi. Cosa coltivi? Cereali. Cosa ci fai con i cereali? Il pane. Ora, il problema è che attualmente sono state trovate briciole di pane, bruciacchiate e tuttavia conservate, prodotte in un deserto del Medio Oriente da una qualche tribù di cacciatori raccoglitori, i quali quindi non coltivavano i cereali, ma facevano comunque lo stesso il pane, impastando farina d'orzo selvatico e di frumento selvatico e in questo sito archeologico, di cui potrei dire il nome leggendo qui, ma non ve lo dirò, ma comunque siamo grossomodo in Giordania, sono state trovate briciole di pane datate fra 11.600 e 14.600 anni fa, diciamo 10.000 anni prima di Cristo come minimo e quindi risultato provvisorio, perché un giorno ne troveranno altre di 20.000 anni fa chiaramente, voi lo capite, ma ora come ora anche questi che non coltivavano un bel niente però avevano capito che questa pianta selvatica, tu puoi prendere i suoi semi, macinarli e farci il pane. ovviamente noi ci fidiamo, non so se ci sono archeologi in sala, gli archeologi ci dicono la datazione è quella e quello è pane e in realtà adesso scherzo, ma perché gli storici tendono un po' ad avere un minimo di rivalità con gli archeologi, i quali trovano continuamente cose nuove e ci cambiano le carte in tavola, ma di fatto ci si può credere, quella roba lì se lo dicono loro è davvero pane. Poi per carità ci sarebbero anche datazioni ancora più indietro, perché in Australia hanno trovato pietre da macinazione che hanno datato a 30.000 anni fa, saremmo quindi ancora molto molto prima. Qui però interviene una cautela che ogni tanto gli archeologi hanno, le chiamiamo pietre da macinazione ma non è che siamo proprio sicuri che servivano per quello, ecco. Quindi diciamo in quel caso lì non è una prova e se poi vogliamo dire quando è che il pane diventa il pane, cioè quando è che la gente lo identifica con il cibo, il vero cibo è quello, come era ancora fino al tempo dei nostri nonni e il resto è un'aggiunta, il companatico, ma il vero cibo è il pane, ebbè quella roba lì comincia comunque ancora nel Neolitico, cioè grosso modo 5-6.000 anni fa in Egitto uno comincia a vedere delle raffigurazioni, delle opere d'arte, delle immagini che rappresentano proprio la macinazione del grano e la produzione della pasta da pane, ecco. Quindi lì a quel punto nell'Antico Egitto era diventato grosso modo quello che conosciamo noi oggi, ecco. Ecco, io professore a questo punto vorrei farli ascoltare e in questo caso anche vedere perché dai qualche miglioria l'abbiamo fatta rispetto al podcast, la sono permessa io. Un'altra domanda che ci arriva da ben 1280 km di distanza, ho calcolato con Google Map naturalmente, vale a dire dal paese di San Floro in provincia di Catanzaro, ce l'ha inviata Stefano, cognomi noi per convenzione non li indichiamo mai, ma dopo aver ricevuto e scelto la sua domanda abbiamo fatto qualche ricerca e abbiamo scoperto che Stefano è un giovane Mugnaio che ha fondato una start-up che recupera varietà di grano antiche, così come diversi mulini storici a pietra e che per tutte queste iniziative ha ricevuto anche un encomio, addirittura un'onorificenza dal presidente Mattarella. Allora a questo punto mi sono permesso di ricontattarlo, la redazione si è permessa di ricontattarlo e abbiamo chiesto se per una volta invece della sola domanda del messaggio vocale ci faceva addirittura una specie di selfie, un video e glielo faccio vedere, lo possiamo vedere qua. Salve professore, mi chiamo Stefano, qualche anno fa grazie ai social ho lanciato un crowdfunding per avviare il mulino che vedete qui alle mie spalle, infatti mi occupo di agricoltura per difendere il territorio, di macinazione anche del latte e del pane. Volevo chiederle quindi l'importanza del grano nella storia, dei mulini e quindi la loro utilità e perché no del latte e della panificazione del mestiere del fornaio. La ringrazio tanto per la sua risposta. Insomma siamo entrati diciamo nell'ambito, l'importanza sociale di alcuni mestieri come mugnai e fornai. Certo e poi l'importanza del grano, ecco in realtà forse vale la pena di dire una cosa anche se rischio di, anzi eviterò di entrare troppo in dettaglio, però diciamolo, noi oggi specialmente noi in Italia, noi oggi mangiamo pane di frumento, pane bianco. In altre parti d'Europa mangiano soprattutto pane nero, pane di segale, va bene. Non è stato sempre così. I cereali che si possono panificare sono tanti e in passato se ne preferivano altri. Anzi, in origine, in Medio Oriente, in Egitto, ma anche nella Grecia antica era l'orzo il principale cereale con cui si faceva il pane. Ed era l'orzo perché l'orzo è molto resistente, non è delicadino come il frumento e quindi quando ti trovi in una realtà di sussistenza in cui dal prossimo raccolto dipende se campi o se fai la fame e allora a quel livello lì prima di investire a fare qualche campo di frumento ne fai tanti di orzo e quando sono l'orzo sei tranquillo allora magari ti permetti anche il lusso di fare il frumento. E poi c'è ancora altro, qualcosa che abbiamo riscoperto da qualche decennio, avete presente la zuppa di farro? Ecco, il farro e la spelta, che è un tipo di farro, sono anche loro dei cereali che hanno dei vantaggi concreti, si conservano meglio per esempio, hanno una specie di buccia intorno al grano. I romani quando dovevano immagazzinare cereali per le campagne militari, che poi le legioni se li portavano dietro sui carri, ecco non ci mettevano mica il frumento, ma neanche tanto l'orzo, invece il farro quello sì perché resiste bene all'umidità, ecco è più difficile che vada male. E poi proprio perché era importante differenziare, capite? Ci sono i cereali che reggono meglio il freddo, quelli che patiscono il caldo, quelli che patiscono il secco e quelli che patiscono troppa pioggia, quelli che semini in una stagione. Allora differenziamo il più possibile. Nell'antichità e nel medioevo seminavano anche un cereale che noi considereremmo immangiabile dagli esseri umani, cioè il miglio, che si dà ai canarini, avete presente, ecco. Si faceva in Europa, anche in Estremo Oriente, mi ricordo adesso che nel film I Sette Samurai si vede a un certo punto il giovane samurai che scopre che i contadini per pagare i samurai che li difendono sono ridotti a mangiare, non più il riso, il riso lo danno ai samurai e loro mangiano il miglio. E questo giovane samurai che, almeno qualcuno di voi avrà visto il film, e se no vedetelo, che è innamorato della ragazza contadina e la scopre che sta mangiando il miglio e rimane costernato, che c'è un cibo da animali. Certo, se sono andati bene gli altri raccolti lo dai alle bestie, ma se sono andati male te lo mangi tu. E dato che siamo qua a Torino, lo dico, verrà un giorno alla fine del medioevo, dopo la scoperta dell'America, che arriverà da noi un altro cereale nuovo, il mais. E questo cereale nuovo si capirà subito benissimo che per gli esseri umani non è l'ideale da mangiare. Lo mangi quando si mette male, se no lo usi per gli animali. Una volta che c'è il mais si smette di produrre il miglio, almeno quello. Adesso che c'è il mais ce lo possiamo permettere, basta miglio. Come lo chiamiamo il mais? Lo chiamiamo miglio. In piemontese melia. Sapete bene che il mais si chiama la melia? Ecco, la melia non è una parola che hanno inventato allora. Prima indicava il miglio, ovviamente, la melia. E poi è passato a indicare il mais. Detto tutto questo, no, beh, rendiamo giustizia ai tedeschi, nel medioevo inventano anche la segale. Inventano, insomma, c'era selvatica ma cominciano a coltivarla, non è una cosa antica la segale. E a quel punto nascono le due Europe, appunto, del pane bianco, dove tutti mangiano pane bianco, e del pane nero, dove i ricchi mangiano pane bianco lo stesso. Ci sono testi medievali che dicono chi è il nobile? È quello che mangia pane bianco tutti i giorni. E il popolo, invece, mangia il pane nero. Dopodiché, però, il nostro Stefano voleva sapere del lavoro del mugnaio. Il lavoro del mugnaio nasce quando nasce il mulino, e cioè in realtà nel medioevo. Perché nell'antichità, non che non conoscessero il mulino, avete presente la differenza. Cioè, mulino vuol dire un macchinario, un edificio vicino a un corso d'acqua. Ci sono anche i mulini a vento, ma da noi non ci sono. Il mulino più diffuso è il mulino d'acqua. C'è un corso d'acqua che fa girare una ruota e c'è un sistema di ingranaggi e di alberi che permette, con questa ruota, di far girare le macine, d'accordo? E quindi si macinano i cereali su grande scala, su scala industriale, diciamo. Nel medioevo il mulino è l'unico macchinario che conoscono tutti, c'è dappertutto. Non c'è paesino sperduto dove non si abbia accesso a un mulino. Gli antichi, il mulino, in teoria, la conoscevano benissimo. Scientificamente erano piuttosto avanti, tecnologicamente erano abbastanza avanti i greci, e quindi il mulino lo sapevano fare. E qualche mulino c'era, grandi impianti statali. Ma avendo gli schiavi e le schiave che non costano niente, era inutile investire per fabbricare i mulini. Metti lì due ragazze e gli fai girare la macina. Tanto che c'è un epigramma di un poeta greco, antipatro di Tessalonica, dell'età di Augusto, che esalta appunto questa novità che sarebbe bello se si diffondesse il mulino, automatico per così dire, il mulino ad acqua. E l'epigramma dice, ragazze potete smetterla di stare attaccate alla macina, perché adesso il vostro lavoro lo fanno le ninfe delle acque e voi finalmente potete riposarvi. Peccato che appunto non conveniva fabbricare i mulini ad acqua finché c'erano gli schiavi. Nel medioevo quando gli schiavi non ci sono più nasce il mulino e quindi nasce il mugnaio, cioè l'uomo che di solito non è il padrone, il mulino l'ha costruito qualcuno che ha investito, ma il mugnaio è l'uomo che lo fa andare avanti e quindi è un personaggio importante chiaramente. Tutti gli abitanti della zona vanno al mulino, voi capite il mugnaio conosce tutti. Arrivi col tuo sacco di grano da macinare, stai lì due ore, cosa fai? Chiacchieri col mugnaio. La prossima volta mia moglie non la mando, vado io dal mugnaio la prossima volta e però intanto dal mugnaio sai cosa ho sentito? Ecco mi spiego, diventa un luogo importante della vita collettiva contadina e diventa un luogo, il mugnaio diventa appunto uno dei personaggi di spicco della comunità come immagino che sia il nostro Stefano che abbiamo visto prima. Io le farei, le faccio vedere una cosa, una, chiamiamola, come si chiama, una word cloud, una nuvola di parole, la descrivo per chi ci ascolta. Al centro c'è una parola gigantesca pane e tutto intorno una moltitudine di tipi di pane che vengono quotidianamente prodotti e consumati nella nostra penisola. Sono tipo 300 i tipi differenti di pane in Italia. Al riguardo c'è arrivata la domanda di Veronica da Parma attraverso la newsletter di San Paolo, di Intesa San Paolo, l'abbiamo invitata ma non è potuta venire, che ci chiede perché in Italia praticamente ogni città ha il suo pane tipico, mentre in Francia c'è solo un tipo di pane da nord a sud, la baguette? Ma questa è una cosa che riguarda non tanto la storia del pane quanto la storia della Francia, perché in passato non era così naturalmente. Non che siano arrivati ad avere 300 tipi di pane, hanno forse 300 tipi di formaggio, diceva il generale de Gaulle se non sbaglio, no? È impossibile governare un paese dove si fanno 300 formaggi diversi. Non aveva provato a governare l'Italia evidentemente. Dopodiché non avevano 300 tipi di pane, ma nell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, la grande opera del Settecento, dell'illuminismo francese, che in pratica descrive il mondo e descrive in dettaglio tutte le tecnologie, tutte le cose che si producono, ecco, nell'enciclopedia ci sono almeno una trentina di tipi diversi di pane prodotti in Francia, che non saranno i 300, ma comunque già qualcosa. E c'erano differenze profonde e di sicuro non c'era la baguette, perché naturalmente il pane a quell'epoca, voi capite come funziona la faccenda. Per tutto il Medioevo e l'età moderna la gente ha il suo grano, la maggior parte della gente sono contadini e se lo coltivano, se no, se sei un cittadino comunque ti compri il tuo grano o al limite ti compri la farina, ecco, d'accordo? Il grano lo porti a macinare al mulino, torni a casa, ognuno ha in casa la sua farina e poi si fa il pane, e cioè la donna di casa naturalmente impasta il pane come minimo per tutta la settimana. Pagnotte quindi belle grosse, te le impasti in casa e poi vai al forno, che come il mulino è un impianto, diciamo, industriale, tra virgolette, pubblico. C'è il fornaio e tu dal fornaio fai cuocere il tuo pane e lo paghi. Puoi pagarlo anche in natura, anziché fare 12 pagnotte ne fai 13, una resta a lui, che poi allora vende anche un po' di pane effettivamente, certo, a chi non se lo fa in casa, ma normalmente te lo fai in casa e quindi se lo fai una volta alla settimana va già bene. E quindi avete presente la baguette il giorno dopo, che cosa è diventata? Ecco, quindi niente, neanche in Francia facevano grandi pagnotte e c'erano addirittura regioni, dov'è che me lo sono insegnato? Nel Delfinato, ecco, a fine Settecento ci sono viaggiatori che osservano che il contadino francese in genere fa il pane una volta al mese. Nel Delfinato, nelle montagne del Delfinato, che erano particolarmente povere, facevano il pane una volta ogni sei mesi. Quindi ti fai il pane per i prossimi sei mesi, poi te lo porti a casa e quando c'è da mettere in tavola il pane vai al padrone di casa con l'ascia e con l'ascia taglia le fette di pane per il pranzo di oggi. Ecco, funzionava così altro che baguette. Poi naturalmente invece la baguette è un lusso della modernità, quando diventa possibile avere negozi che te lo sfornano fresco tutti i giorni, è però perché la baguette in tutta la Francia, ma per lo stesso motivo per cui in Francia nessuno parla più dialetto, perché la Francia ha centralizzato deliberatamente, molto pesantemente tutta la vita collettiva e quindi così come si è fatto di tutto per sradicare i dialetti, così di fatto si è imposta un modo francese di fare le cose uniforme, da cui appunto, vabbè neanche adesso è la baguette l'unico pane che si trova in Francia, in realtà ci sono panetterie che fanno cose sfiziose, però effettivamente è una cosa che da un capo all'altro dell'esagono, come dicono loro, rimane dominante. Visto che siamo arrivati ai tipi di pane all'Italia, alla nostra penisola, per entrare ancora più nello specifico le vorrei fare ascoltare una domanda che ci arriva da Perugia, da una giovanissima ascoltatrice, che tra l'altro ha un nome mitologico, Castaglia, l'ascoltiamo. Buongiorno professore Alessandro, io mi chiamo Castaglia e vivo a Perugia. I miei genitori sono Viterbesi, volevo chiedere perché sia Viterbo sia a Perugia c'è il pane sapo. Ci sono motivi stoici, per caso? Grazie. Allora, beh certo che in gran parte dell'Italia centrale si fa il pane senza sale, lo sappiamo, e sappiamo anche tutti che è una cosa che risale come minimo al Medioevo, dico lo sappiamo tutti, perché tutti quanti vagamente avrete sentito una volta nella vita il verso di Dante, quando sarai in esilio tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, perché il pane altrui sa di sale? E quindi a te toscano in esilio ti fa sentire ogni volta che vai a tavola che non sei in patria, il nostro invece era senza sale, molto più buono implica Dante ovviamente, ecco. Devo dire che questa cosa del pane senza sale secondo me è semplicemente perché a loro gli piace così, e una volta che cominci a fare le cose in un modo diventa il modo di casa tua, di farlo, ma naturalmente nessuno si soddisfa, lo vedo anche sulle vostre facce, e nessuno si soddisfa di una risposta del genere. Lo fanno perché gli piace farlo così. No, ci sarà un motivo. E allora in realtà intorno a questo pane senza sale, quando nell'Italia centrale si sono accorti appunto che gli altri non lo fanno così, sono nate una serie di spiegazioni, che secondo me sono leggendarie, però non è che io ho la verità in tasca, magari, però le spiegazioni vertono soprattutto sul commercio del sale. Allora, è vero che il sale in passato era una merce che costava, era una delle poche cose che tutti dovevano comprare. Senza sale la vita umana non è possibile. Nella nostra civiltà da sempre si sono fatti i salumi, naturalmente, il contadino ammazza il maiale, il sale è fai il pane, ci devi mettere il sale, tranne appunto l'Italia centrale. Quindi il sale è l'unica cosa che anche in un'economia molto di sussistenza, dove il contadino cerca di produrre tutto quello che gli serve, lo deve pagare il sale, lo deve comprare. E questo significa che ci sono dei monopoli, del resto il sale, fino a un po' di tempo fa, chi è alla nostra età se lo ricorda, quando c'era il monopolio sale e tabacchi, e si comprava solo dal tabaccaio il sale, monopolio di Stato. E questo è un avanzo del fatto che, tra Medioevo ed Età Moderna, i governi, i quali sono sempre alla ricerca di nuovi modi, la cosa vi stupirà, di imporre delle tasse, anche in passato naturalmente, e quindi, una volta che ti sei reso conto che il sale è l'unica cosa che tutti comprano, e per di più viene importata, e allora, tanto per cominciare, ci mettiamo delle belle tasse sopra, ma tanto la gente deve comprarlo. E allora una delle risposte possibili, appunto, che si sentono dire ogni tanto, è che quando il Papa ha aumentato nello Stato Pontificio spropositatamente il prezzo del sale, allora la gente dice, glielo faccio vedere io al Papa, e non lo usiamo più il sale, nel pane non ce lo mettiamo. In realtà, sapete perché, mi lascia in dubbio questa cosa, non ci metterei la mano sul fuoco per lo Stato Pontificio, non lo so, cioè in modo specifico, ma in generale i governi dell'età moderna non erano mica fessi. Lo sapevano benissimo anche loro, che se costa tanto il sale, la gente piuttosto non lo compra, per cui, in moltissimi paesi, il sale era diventato obbligatorio comprarlo. Il sale era una forma di tassazione, nel Regno di Francia, per esempio, al tempo del Re Sole, la tassa del sale vuol dire ogni famiglia ha la sua assegnazione di sale, e gli arriva il funzionario del fisco con la sua scatola di sale e se la fa pagare, ed è obbligatorio comprarla. Ora, secondo me, anche il Papa ci poteva arrivare, quindi non ci credo tanto a questa cosa che fosse un modo per evitare le tasse. Poi a Firenze dicono, ma perché noi dovevamo comprarlo dai pisani? E vuoi arricchire i pisani? Ma quando mai? Piuttosto rinunciamo. E anche nel salame ci mettiamo i semini di finocchio e inventiamo la finocchiona, invece di metterci il sale, alla faccia dei pisani. Però, ripeto, sono tutte quelle cose che, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano. Il pane fa discutere, a volte solleva anche vere e proprie rivolte, ma è personalmente capitato di seguirne una in Giordania a metà degli anni 90, una rivolta del pane. E allora ho io una curiosità, perché ho fatto una ricerchina, mi ero incuriosito, e a parte, insomma, senza scomodare Manzoni, eccetera, oppure quelli più recenti, come lo sciopero del pane, delle rose, del Massachusetts, eccetera, eccetera. Però, mi sono imbattuto in una guerra del pane che si è tenuta a Torino nel 1917, se non sbaglio, e a questo punto, gliela faccio io, ma di che cosa si tratta? Eh certo, siamo sempre a Torino, chiaro, 1917, agosto 1917, piena prima guerra mondiale, noi siamo entrati in guerra già da più di due anni, sulla popolazione civile ovviamente si sente il peso della guerra, restrizioni, razionamenti, nelle grandi città industriali, però, il reclutamento dell'esercito non ha inciso molto, perché gli operai sono indispensabili per la produzione bellica, quindi Torino, per esempio, è una città che è ancora piena di operai che sarebbero in età di servizio militare di essere spediti al fronte e che invece stanno in fabbrica, militarizzati, con orari molto umili, avevano appena cominciato a conquistarsi le otto ore, poi ti arriva la guerra, si torna alle 12 ore di lavoro e sotto controllo della giustizia militare, ecco, e la popolazione civile comunque subisce il razionamento, allora, il razionamento pesa, la gente non mangia bene e ha fame, però al tempo stesso non c'è dubbio che nelle fabbriche i socialisti e gli anarchici sono forti e si sente dire ma questa guerra dei padroni, questa guerra dei re e degli imperatori è noi, è noi che la paghiamo, no, ecco, quindi c'è questa doppia dimensione, dopodiché nell'agosto del 17 c'è un momento in cui in città manca il pane semplicemente perché i rifornimenti si sono momentaneamente interrotti e scoppiano grandi manifestazioni di piazza, gli operai e le operaie scendono in piazza protestando e protestano per il pane ma ci mettono pochissimo a cominciare a gridare abbasso la guerra e quindi naturalmente le autorità si preoccupano moltissimo, le autorità reprimono con una certa violenza queste manifestazioni che durano parecchi giorni tipicamente l'operaio che è stato beccato dalla polizia a quel punto se lo scorda di continuare a fare l'operaio gli si sospende il permesso e lo si manda in trincea e così impara un'altra volta a protestare, no? le autorità sono davvero preoccupate e io ho pescato e vi volevo leggere una testimonianza su questo di come la classe dirigente anche fatta di persone intelligenti colte ma di come facevano fatica a capire quello che passava nella testa del popolo è una lettera della contessa Margherita Papafava che scrive al marito che è capitano in servizio sul fronte di Zonzo 15 settembre del 17 e le racconta che il fratello di lei il continuo novello Papafava è una nobile famiglia di Padova mi pare era a Torino per il corso allievi ufficiali quando c'è stata la rivolta e lui il fratellino ha partecipato con le truppe alla repressione della rivolta e scrive la contessa Margherita ha raccontato tutto di Torino dice che erano proprio molto odiosi ma che la repressione è stata fatta veramente benissimo ha fatto effetto elevato molto la voglia di ricominciare meno male figurati che la fame c'entrava così poco che nessuno gridava vogliamo pane ma tutti abbasso la guerra e che in tasca di moltissimi arrestati hanno trovato oro tedesco figurati se i tedeschi andavano a pagare gli operai ecco e foglietti che dicevano viva la repubblica italiana con a capo giolitti giolitti era l'unico politico che allo scopo della guerra si era opposto in tutti i modi all'entrata in guerra dell'Italia quindi secondo la contessa papafava loro erano pagati dai tedeschi volevano fare la repubblica far finire la guerra e la contessa conclude sinteticamente che porci e questo è il modo in cui l'aristocrazia appunto percepiva le rivolte come la rivolta del pane di Torino del 17 e io a questo punto dovrei dire tempo scaduto ma solo ma solo per passare non so come farai a ricavare una sola puntata da tutto questo ma siamo siamo flessibili noi con i podcast allora il secondo argomento è l'amore allora io mi sono permesso di scegliere questa frase che adesso comparirà sullo schermo come collegamento tra i due argomenti perché in una intervista di parecchi anni fa del 2001 Laura Morante la nipote di Elsa racconta che sua zia poneva a tutti la domanda qual è la frase d'amore più vera cioè quella che esprimesse di più il sentimento e tutti tendevano a dare grandi a dire grandi cose no? e allora lei li gelava dicendo no la frase d'amore l'unica è la domanda hai mangiato? lei professore che ne pensa? che frase avrebbe indicato? ma io una frase non sono brava in questa non saprei indicare una frase però questa cosa di hai mangiato mi fa venire in mente sì ci può essere qualcosa dipende da come si intende l'amore c'è una novella del Decameron che è la novella di Pietro da Vinciolo Pietro da Vinciolo è uno un signore di Perugia che tutti sanno che è omosessuale però in realtà lui non vorrebbe tanto che si sapesse nel medioevo in teoria era vietato dalla chiesa in realtà non fregava niente a nessuno non c'era nessuna forma di repressione reale però comunque e si era sposato per far finta di essere appunto eterosessuale e Boccaccio raccolta che si era sposato con una ragazza che fosse stata una fredda ma invece no era una che avrebbe avuto voglia di avere un marito che si occupasse di lei e siccome il marito non se ne occupava ovviamente lei si fa l'amante è una novella di Boccaccio capite no? e quindi la classica novella di Boccaccio che il barito va fuori vado a cena fuori stasera sono fuori per affari ottimo la moglie invita il ragazzo e sono lì che stanno per mettersi a tavola quando tump tump alla porta accidenti è tornato mio marito nasconditi nasconditi torna il marito e com'è com'è non è succede cos'è che un asino lo fa nascondere nella stalla l'asino pesta il piede al ragazzo che è nascosto lì il ragazzo strilla il marito va a vedere trova questo ragazzo nascosto in casa sua e dice Boccaccio e lo riconosce subito era un ragazzo a cui lui era stato dietro per un po' di tempo e che però non voleva mai starci e quindi di colpo Pietro dice ah ma sei tu ah ma tornano vieni vieni tornano dalla moglie e la moglie gli dice ah adesso tu mi farai chissà quale scenata lo so io ma tu non capisci perché io sappi che io sono una donna come le altre e ho voglia di quello di cui hanno voglia le altre e quindi con te e Pietro le fa no no ma non stiamo a discutere di queste cose dai non voglio mica sgridarti figurati avete mangiato e dice no secondo me non avete ancora dai questo ragazzo ha fame mettici a tavola dai e si mettono tutti a tavola e Boccaccio finisce dicendo come sia andata a finire io non lo so so però che il mattino dopo quel ragazzo quel giovanotto si è trovato in piazza un po' stordito e cito Boccaccio senza aver ben capito se quella notte era stato più marito o più moglie però appunto la domanda fondamentale avete già mangiato quindi Elsa Morante non so se intendeva una cosa del genere ma come vedi qualcosa c'è ecco comunque sul tema dell'amore abbiamo ricevuto numerose domande allora adesso cominciamo da quella di Eleonora che ci scrive da fermo leggo caro professore le scrivo perché affascinata dalla mia omonima d'Aquitania Eleonora d'Aquitania vorrei chiederle di spiegare che cos'erano le corti d'amore grazie visto che prima mi ha sgridato grazie con amore Eleonora allora beh le corti d'amore sono uno degli argomenti collegati col grande tema della poesia cortese della poesia stilnovistica in Italia quindi di questa poesia amorosa che era una delle forme di poesia preferite dai poeti del 200 e anche prima dai trovatori provenzali ecco la poesia d'amore di quell'epoca era una roba tutt'altro che semplice non aveva niente a che fare con le nostre canzoni d'amore che fanno la rima cuore amore eccetera no era una poesia estremamente sofisticata come sa chiunque si ricordi a scuola quando dovevamo leggere gli stilnovisti era faticosissimo anche solo capire di cosa stavano parlando è una poesia con un forte tasso di discussione intellettuale sul tema che cos'è l'amore per l'appunto e le corti d'amore sono menzionate in testi medievali come una specie di gioco di società sostanzialmente tenete presente che appunto in quella società dove non c'erano il cinema il teatro i concerti per passare il tempo si stava molto insieme si stava molto insieme e si facevano dei giochi di società è un possibile si giocava anche a mosca cieca gli adulti giocavano a mosca cieca nascondino si divertivano molto più di noi peraltro ecco ma si facevano anche i giochi un po' più sofisticati per esempio facciamo un tribunale corte d'amore in quel senso facciamo un tribunale e discutiamo poniamo una questione chi è che trova una questione adatta diciamo l'amore è una cosa positiva che bisogna cercare di seguire quando ti arriva addosso o è una cosa pericolosa da cui bisogna tenersi lontana bellissima domanda dai facciamolo chi fa l'accusa faccio io chi fa la difesa voi fate i giurati e passiamo la serata così discutendo su questo e arrivando a una sentenza qualcuno dice sì ma queste cose le descrivevano nei romanzi ma nella realtà non le facevano mica io non mi stupirei affatto che le facessero perché ripeto nelle lunghe serate Dante e gli amici quando invitavano Beatrice e le altre qualche cosa dovevano fare comunque e la vita di società era una cosa importante cioè si stava molto insieme si facevano tante cose insieme quindi io penso che esistessero davvero e per l'appunto il fatto che mentre noi diamo per scontato voglio dire a chi verrebbe in mente oggi di dire no secondo me l'amore è una cosa brutta e negativa e bisogna tenerla alla larga quando mai non la trovi l'accusa a quel punto loro sì il che vuol dire che appunto l'amore non era necessario non è stato necessariamente concepito allo stesso modo in tutte le epoche no rimaniamo sul tema perché c'è una domanda che ci è arrivata da Nizza ce la manda Luca e Luca scrive per una serie di motivi casuali mi sono trovato a rileggere il canto quinto dell'inferno e mi sono soffermato sul celeberrimo e difficilissimo verso amor canullamato mar perdona vorrei chiederle come si amavano il corso della storia greci romani barbari invasori avevano qualcosa in comune tra loro o con l'idea che Dante ci dà dell'amore nel quinto canto ma allora appunto diciamo io specialmente quando negli ultimi anni mi sono occupato di Dante però in generale studiando il medioevo e la cultura medievale è un problema che ho dovuto pormi allora io c'è una parte della mia risposta che è un'idea che mi sono fatto e c'è una seconda parte che invece è più oggettiva diciamo così su quello non ho proprio dubbi l'idea che mi sono fatto è che la gente si sia sempre innamorata allo stesso modo in ogni epoca e che la gente si innamorasse al tempo di Dante al tempo di Pericle e al tempo degli uomini di Neandertal è esattamente come ci innamoriamo noi cioè vedi una persona che prima non conoscevi e chissà perché comincia a pensare a quella persona e a avere voglia di rivederla io sono abbastanza sicuro che questo esisteva e del resto come dire le fonti letterarie lo fanno vedere questa idea dell'innamorarsi e del desiderare una persona desiderarla anche fisicamente molto di rado si è fatta differenza tra l'essere innamorati di qualcuno e il desiderare di andarci a letto meno che mai nel medioevo quando l'amore poteva essere cortese finché volevi ma che avesse un contenuto anche molto concreto non c'era il minimo dubbio ecco questo secondo me c'è sempre stato però però poi il problema è va bene ti sei innamorato va bene sei un ragazzo togliti qualche sfizio c'è no questa è una cosa seria è centrale nella mia vita io voglio quella persona momento vorrei mica dire che la vuoi sposare quella persona lì sì papà la vorrei sposare ragazzo mio o se preferite ragazza mia ma non lo sai che il matrimonio è una roba seria che non c'entra niente con queste robe che fate voi giovani il matrimonio vuol dire che ti troveremo un bravo giovanotto di una famiglia amica nostra e ragioneremo bene con i suoceri sulla dote sulla controdotte perché guarda che è il tuo futuro quello eh quando rimani vedova poi quanto ti ha intestato tuo marito del suo patrimonio vedrai che a quel punto ti interesserà e mica mica solo perché è uno carino che ti piace figuriamoci queste sono scemenze da ragazzi il matrimonio è una roba seria era chiaramente così nel mondo antico e chiaramente così nel mondo medievale le commedie antiche non quelle proprio classiche di Aristofane che se devo voler erano un po' variate ma poi la commedia nuova del mondo greco è terribilmente legata a questi cliché qual è il tema il giovanotto si è innamorato di una ragazza peccato che lei è una cortigiana e quindi in famiglia fuoco e fiamme poi magari nella commedia se la sposa davvero nella realtà era meno probabile in sostanza uno dei grandi temi che bisogna porsi è malamore che mi fa smaniare per questa persona ma io vivo in una società non che loro immaginassero che sarebbe arrivata la società nostra dove è del tutto naturale ti piace quella persona e decidi di sposartela o di andarci a vivere insieme eccetera e nessuno dice niente loro non se lo immaginavano neanche lontanamente che potesse esistere un mondo così e quindi per loro che tu vivessi nella Grecia antica o nella Firenze di Dante il discorso è mi è arrivata addosso questa roba mi sono innamorato perdutamente o innamorata perdutamente anche se i poeti sono in grande maggioranza maschi ma non solo maschi e sia chiaro questa roba devo alimentarla è una cosa positiva mi fa bene o invece è una cosa sbagliatissima è una cosa che mi fa desiderare è qualcosa di impossibile è una cosa che mi fa sragionare che mi fa comportare in modo irragionevole contro tutte le regole sociali e quindi è una cosa pericolosa questo è uno dei grandi temi su cui si discute e questo ti porta a immaginare l'amore in un modo un po' diverso da come ce lo immaginiamo noi perché noi comunque se dovessimo raffigurare l'amore sarebbe comunque una cosa un po' sdolcinata credo in linea di massima Dante l'amore lo raffigura nella vita nuova quando ha appena incontrato Beatrice e la seconda volta l'ha incontrata la bambina si è innamorato per sempre poi non l'ha più vista per un sacco di tempo poi quando hanno 18 anni lei incontra di nuovo e lei lo riconosce e lo saluta per nome e lui tocca il cielo con un dito si precipita a casa si chiude in camera ci pensa ci pensa ci pensa questa cosa che ha incontrato Beatrice lei sa chi sono si ricorda di me poi si addormenta e sogna e sogna che gli appare un essere gigantesco e mostruoso non mostruoso ma terribile ecco un essere spaventoso e terribile su uno sfondo di fuoco e fiamme e quest'essere terribile ha in braccio Beatrice nuda nuda sotto un sottilissimo velo dice Dante testualmente e quest'essere terribile che ha in braccio Beatrice guarda Dante e gli dice io sono il tuo padrone quello è l'amore ecco che come vedete quindi non necessariamente è un amorino coi cuoricini e così via il loro grande problema è forse è una cosa irrazionale innamorarsi è una persona razionale dovrebbe combatterla questa cosa a proposito di raffigurazioni c'è una domanda che riguarda proprio questa una curiosità di Andrea che ci scrive da Ospedaletto Euganeo e scrive sono Andrea e volevo sapere qual è l'origine del simbolo del cuore e come è stato collegato al vero e proprio cuore usato anche per rappresentare l'amore il simbolo del cuore di per sé se uno va a cercare trova sempre quello che cerca e quindi se uno passa in rassegna l'infinita produzione artistica del mondo antico ogni tanto trova qualcosa che assomiglia al nostro cuore naturalmente nell'arte egizia ci sono raffigurazioni di questa cosa e pare che anche il geroglifico che in Egitto indica la parola cuore abbia una qualche somiglianza col modo in cui noi rappresentiamo il cuore poi ci sono tutte delle speculazioni sul fatto che quella forma lì è anche la forma di una certa pianta il silfio che pare che nell'antichità avesse poteri fosse considerato un afrodisiaco ma insomma anche lì sono tutte quelle cose l'importante è che in realtà per noi vedendo quella cosa lì è immediatamente ovvio che quello è il cuore ed è l'amore e quindi da quando quella cosa è stata così esplicita ed evidente nella nostra civiltà è una cosa che nasce abbastanza tardi in realtà diciamo fine medioevo perché nel medioevo nel 200 nel 300 ci sono già alcune raffigurazioni del come avete capito a loro l'amore gli interessava molto ne discutevano moltissimo quindi hanno una vasta letteratura sull'amore e nel contesto di questa letteratura medievale amorosa a partire dal 200 comincia a comparire qualche miniatura in cui si vede l'innamorato in ginocchio che offre il suo cuore alla dama di cui è innamorato ovviamente lei è in trono e lui è l'inginocchio sotto di lei e le porge il proprio cuore e questo cuore grosso modo è a forma di pera ecco sembra una pera con la punta verso l'alto non è proprio tanto simile al nostro ecco quindi 2300 ancora la convenzione del cuore come lo intendiamo noi non c'era ancora ma tra fine medioevo e rinascimento deve essere nata anche perché fra l'altro sulle carte da gioco che vengono inventate nel 400 e il seme di cuori c'è c'è fin dall'inizio ecco quindi evidentemente in quel momento lì si è fissata questa questa convenzione iconografica diciamo a dimostrazione che il passaggio tra pane e amore non è così ingiustificato sono arrivate diverse domande alla newsletter di Intesa San Paolo proprio sul rapporto tra cibo e amore Mariangela Luca che tra l'altro sono anche dipendenti di Intesa San Paolo però c'è una domanda analoga a quelle di Mariangela e Luca di Elisa che è in sala e adesso io anzi chiederei gentilmente ecco arriva il gelato così finalmente sentiamo una domanda dal vivo buonasera buonasera io volevo chiedere visto che al giorno d'oggi ci sono numerosi cibi che sono noti per le loro proprietà afrodisiache e che però nel medioevo non erano conosciuti se per caso nel medioevo ci fossero dei cibi che erano insomma dei sostituti di quelli che oggi conosciamo come il cioccolato per esempio certo grazie mille dunque se ho capito bene anche altri di voi del San Paolo hanno avuto la stessa curiosità quindi qui nelle austere sale del San Paolo circola questo interesse forse nelle macchinette ci sono degli afrodisiaci cioccolato di sicuro no ecco diciamo prima di rispondere notiamo com'era diversa la vita in un'epoca in cui appunto non avevano il caffè non avevano il tè non avevano il cioccolato non avevano i liquori avevano il vino ma non ma non i super alcolici non avevano droghe di nessun genere capite che il rapporto della persona anche con se stessa con la felicità con l'idea di felicità doveva essere per forza diverso non per niente andavano matti per le spezie e non per niente erano disposti a pagare a peso d'oro lo zafferano o il pepe almeno quando mangi ci metti qualche cosa di diverso e che le spezie potessero essere afrodisiache a quel punto quando si mettevano a ragionare su queste cose un po' ci speravano ma erano appunto speranze perché in realtà non disponendo di un approccio scientifico a questi problemi erano costretti ad andare un po' appunto per ipotesi e l'ipotesi fondamentale era che le cose buone e positive hanno effetti buoni e positivi in tanti campi quindi lo zucchero lo zucchero forse fa bene anche alle malattie dopo tutto è così buono e non può non fare bene è così le spezie ovviamente no ecco dopodiché non c'era credo il luogo comune del tipo il tale cibo tutti sanno che aiuta ecco però c'era invece questo sì lo sforzo di singoli di singoli individui di singoli filosofi o di singoli cuochi di farsi un'idea e di dare dei suggerimenti ecco e quindi si trovano tenete conto che la cucina invece la cucina della fine del medioevo la cucina di corte è una cosa molto complessa cioè non dovete immaginarvi l'arrostone allo spiedo ma invece cuochi che sanno produrre piatti estremamente sofisticati con combinazioni di ingredienti e di spezie anche appunto molto rare e così via e ci sono cuochi che scrivono tra fine medioevo e rinascimento libri di cucina in cui si vede benissimo che un cuoco serio pensa anche all'effetto che hanno i suoi piatti sulla salute e quindi anche su quello c'è c'è anche una una sovrana italiana del rinascimento Caterina Sforza sovrana di Forlì e di Imola dalle tue parti conosco bene appunto Caterina Sforza vissuta a fine 400 inizio 500 fra mille cose che ha fatto ha raccolto un librone di ricette ma non solo ricette di cucina anzi per lo più prescrizioni medicinali ricette quindi in senso medico cosmetici è tutto collegato tu hai degli ingredienti e combinando quegli ingredienti puoi fare tante cose quando si trattava di una ricetta che doveva avere un effetto afrodisiaco la scriveva in codice aveva un suo codice una lettera al posto dell'altra e a questo punto gliene leggo una in traduzione a fare dal codice a fare lussuriare inestimabile questo è un prodotto fantastico se volete lussuriare per l'appunto prendi anzi piglia lei dice piglia acqua di betonica che è un'erba la betonica io l'ho mai sentito nominare ma io sono un asino in botanica erba betonica con acqua rosa e bevine con vino caldo o latte quindi acqua di rose acqua di betonica in un bel bicchiere di vin brûlée o in un bicchiere di latte che vedrai grande esperienza se vi fidate potete provare forse c'è il drink nelle banchinette di Intel e con questo forse abbiamo finito anche la seconda parte vero tempo scaduto allora invece finalmente siamo al terzo argomento lei ha già spiegato che appunto questa trilogia nasce nasce con la cioè il maresciallo che ha ottenuto se non sbaglio si ferma dal paesano e gli chiede che stai mangiando pane marescià e che ci metti dentro fantasia marescià noi la fantasia non ce l'avevamo abbiamo invece individuato un po' di domande sulla sulla meraviglia allora io come sempre come frase ponte avrei scelto una una citazione di una canzone di di De Andrè da storia di un impiegato se non ricordo male la citazione è questa si può anche leggere ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane e ovviamente in questo caso la meraviglia non ha una connotazione positiva ma la meraviglia è lo shock lo stupore l'orrore l'indignazione sullo stupore ci è arrivata una domanda da parte di Alberto che ci scrive da Ortona e che ci chiede potrebbe spiegare professore che cosa si intendeva per stupormundi nell'antichità allora stupormundi è un termine con cui è stato definito l'imperatore Federico II di Svevia nel medioevo quindi io non lo so se poi Alberto magari pensava a quello ma io diciamo ho preso alla lettera il discorso dell'antichità sono andato a vedere c'era già anche nell'antichità questa espressione a dire tutta la verità secondo me non c'era non viene fuori in nessun dizionario in nessuna raccolta di citazioni anche se c'è da qualche parte in rete si trova qualche sito che dice che veniva chiamato stupormundi l'imperatore vittorioso che celebrava il trionfo avete presente il trionfo celebrato dai generali romani però io nei testi latini anche appunto attraverso i dizionari vocabolari che si usasse questa espressione elogiativa non lo tratto da nessuna parte e devo anche dire che in latino classico stupor mentre chiaramente nel medioevo quando usano questa espressione per definire Federico II pensano allo stupore in senso positivo cioè ci ha stupiti tutti ecco in latino classico stupor non ha tanto quel senso positivo tenete conto che stupor ha la stessa radice di stupidus la persona stupida è quella che è rimasta stupita per l'appunto ecco e invece Federico II in un'epoca in cui il latino si è evoluto e ha cambiato tante delle sue aree semantiche insomma c'è un autore un cronista del suo tempo un monaco inglese Matthew Paris che scrive appunto subito dopo la sua morte che lui era stato fra le altre cose uno stupor mundi et immutator mirabilis cioè un meraviglioso mirabilis si può dire cambiatore delle cose ecco uno che dove arrivava cambiava le cose in modo meraviglioso e dunque stupor mundi peraltro su questo mi fermerei ancora un attimo perché da questo disgraziato monaco inglese che scrive questa frase tutti poi dicono Federico II era chiamato ai suoi tempi stupor mundi a dire la verità è quest'unico cronista che lo dice dopo la sua morte la formula è bella ci piace in realtà Federico II all'inizio della sua vita era stato soprannominato in un altro modo Federico II che come ricorderete dai ricordi di scuola era figlio dell'imperatore Enrico VI quindi ereditava le pretese sull'impero ma era anche figlio di Costanza d'Altavilla la Normanna quindi da lei è ereditato il regno quello che in Italia nel medioevo si chiamava il regno e basta cioè il sud l'Italia meridionale lui era imperatore potenzialmente all'inizio poi l'ho diventato ed era re dell'Italia meridionale che in molti paesi europei veniva chiamata per così non mi ricordo più che figura retorica è comunque sineddo che la Puglia specialmente nei testi francesi medievali quando si legge la Puglia o le Puglie a Puglia in latino si deve capire che si intende il sud in generale cosa di cui i pugliesi possono essere forse giustamente orgogliosi peraltro e ce ne saranno tanti qui immagino allora Federico ragazzino eredita il trono già ragazzino è una figura conosciuta ovunque naturalmente questo ragazzino che è diventato re della Puglia e aspira all'impero ed è conosciuto e qui ci sono davvero molti testi contemporanei che lo citano come il Puer Apulie ovvero unica traduzione sensata il ragazzo del sud Federico II è il ragazzo del sud per antonomasia agli occhi del resto dell'Italia e dell'Europa ecco c'è una domanda di Isabella che non indica da dove c'è scritto però credo che potrei sbagliare però va un po' all'origine del significato del termine che abbiamo scelto come argomento ovvero la meraviglia leggo stimatissimo professore vorrei chiederle di raccontarci delle guide turistiche medievali ovvero le miraviglia vorrei capire quanti le consultassero quante fossero precise quanto fossero precise attendibili e se a lei come storico siano mai state utili come fonte grazie complimenti per il bellissimo podcast Isabella forse si dice in realtà piuttosto i mirabilia credo perché è un neutro plurale non è che ci fosse il genere della guida turistica nel medioevo ma c'era la guida turistica della città che dal punto di vista turistico era la più importante d'Europa ovvero Roma perché a Roma si andava in pellegrinaggio certo era ancora meglio andare in pellegrinaggio a Gerusalemme se uno poteva permetterselo però nell'epoca delle crociate la cosa non era poi così semplice in tutti i momenti andare in pellegrinaggio a Gerusalemme per un cristiano del medioevo era chiaramente la cosa più importante in assoluto e infatti noi fin dal quarto secolo quindi dai primissimi secoli del cristianesimo abbiamo diari di viaggio itinerari di persone che sono andate a Gerusalemme e che hanno raccontato le tappe del loro viaggio tra l'altro uno dei primi autori donna che possiamo ascrivere al medioevo è questa monaca Egeria appunto del quarto secolo che ha scritto raccontando il suo viaggio a Gerusalemme e a Gerusalemme si andava ovviamente quello è il pellegrinaggio più importante di tutti perché il pellegrinaggio per i cristiani voleva dire andare a trovare il Signore o i suoi santi ma proprio andarlo a trovare fisicamente certo a Gerusalemme Gesù non c'è più perché è risorto va bene però è stato sepolto lì tre giorni e c'è ancora ovviamente il suo sepolcro e andare a Gerusalemme vuol dire andare dove è vissuto è morto ed è risorto lui ed è un'esperienza straordinariamente emozionante vuol dire noi abbiamo testimonianze medievali su questo cioè l'idea sto pestando la stessa polvere che ha pestato lui e poi è chiaro che capite siccome loro tutti sono convinti che quando muori in un modo o nell'altro lì ci sono versioni diverse ci saranno un angelo e un diavolo che verranno a dire chi lo prende lo prendi tu o lo prendo io questo oppure comunque prima o poi dovrai comparire davanti a lui in ogni caso ecco e lui ti chiederà perché ti dovrei far entrare e tu dirai lo so che ne ho fatto di tutti i colori ho peccato però però ho fatto anche delle cose buone in vita mia sono venuto da te ci ho messo anni il pellegrinaggio a Gerusalemme vuol dire stare lontano da casa anche anni è pericoloso faticoso costoso uno su due non torna a casa quindi insomma almeno questo lo posso dire che l'ho fatto ora dopo Gerusalemme il pellegrinaggio più conveniente che è passione di più che coinvolge di più con cui si guadagna di più naturalmente è andare a Roma da San Pietro perché è sempre il solito discorso sarò lì davanti e chiederò che mi aprano e dentro c'è uno che ha le chiavi ed è San Pietro e a San Pietro potrò almeno dire ma ti ricordi che sono venuto sono venuto davvero da te perché San Pietro è lì sepolto lì ho baciato le tue ossa adesso la sto mettendo sullo scherzo ma in realtà sono emozioni significative per i cristiani di quei secoli e quindi una marea di gente va a Roma ovviamente essendo anche loro esseri umani vanno a Roma e dicono ma che meraviglia ma cos'è quella roba lì quello lì è il castello in cui l'imperatore Costantino invece è il Colosseo però al turista i romani mi spiego ecco tutto quello che c'è da vedere sono tutte robe meravigliose e i romani ne sono consapevoli e quindi a Roma a un certo punto nel dodicesimo secolo noi cominciamo a trovare manoscritti conservati nelle biblioteche romane in cui sono contenute appunto queste descrizioni ad uso dei pellegrini delle meraviglie di Roma e quello è proprio un genere prodotto in loco tendono a essere anche ripetitive si copiano l'una con l'altra e poi ce n'è una famosissima che invece è quella di Maestro Gregorio nel 200 questo Maestro Gregorio è un ecclesiastico inglese che va in pellegrinaggio a Roma e scrive poi la descrizione di Roma come l'ha vista lui e la cosa particolarmente interessante è che anche lui è un ecclesiastico del 200 gli interessano le antichità si San Pietro descrive rapidamente si si per carità c'è San Pietro la Basilica di San Paolo si si c'è la Basilica di San Paolo però il Panteon il Panteon lo misura quanti passi di diametro di circonferenza le colonne le statue ecco Maestro Gregorio descrive proprio testualmente ogni singola statua che ha visto gli archi di trionfo le colonne che sono ancora in piedi i palazzi quel palazzo lì in realtà sono le termine di Diocleziano però a lui gli sembra un palazzo e quindi è un testo a sé stante questo nel genere dei Mirabilia poi Isabella chiede se me ne sono mai occupato direttamente no non me ne sono mai occupato direttamente se ne occupava e me l'ha spesso raccontato uno dei miei maestri che era Chiara Frugoni che è scomparsa da poco con cui ho lavorato per tanti anni io e da lei che ho imparato diciamo che c'era questo testo fantastico di Maestro Gregorio le meraviglie di Roma restiamo proprio a Roma perché è arrivato un messaggio da Matteo purtroppo non ci ha mandato l'audio c'è solo un messaggio scritto peccato perché sarebbe stato bello ascoltarlo Professor Barbero salve sono Matteo ho 12 anni e vivo a Roma io vorrei sapere chi ha stabilito quali erano le sette meraviglie del mondo e perché tra queste non ci hanno messo il Colosseo eh già certo e non ci hanno Matteo non ci hanno messo il Colosseo perché la lista delle sette meraviglie del mondo tu dici è stata fatta nell'antichità sì sono tutti grandi edifici dell'antichità e quindi ma l'antichità è lunga la lista delle sette meraviglie del mondo è stata stabilita nel mondo ellenistico più o meno tre secoli prima che a Roma costruissero il Colosseo è stata stabilita nel terzo secolo avanti Cristo e questo si può anche sapere perché le sette meraviglie hanno ciascuna una sua storia e una di quelle meraviglie il Colosso di Rodi è crollata per un terremoto nel 226 avanti Cristo dal 226 avanti Cristo il Colosso di Rodi non c'era più e quindi chi ha fatto la lista delle nostre sette meraviglie l'ha fatta prima e d'altra parte d'altra parte c'è il faro di Alessandria e il faro di Alessandria era stato costruito intorno al 300 al 280 avanti Cristo prima non esisteva quindi insomma la lista è stata fatta in quel momento Matteo il Colosseo l'hanno fatto Tito Vespasiano e Tito e Domiziano fine del primo secolo 300 anni dopo temo che sia una scarsa consolazione il fatto che come ho scoperto magari lo sapevate tutti io non lo sapevo ci sono anche le sette meraviglie del mondo moderno che però si intende dal 230 avanti Cristo in poi quindi le sette meraviglie del mondo moderno hanno fatto un concorso c'è un'azienda che ha lanciato un concorso nell'Olimpia del 2000 e poi ha nominato dei giudici e ha raccolto indicazioni stavo per dire dagli ascoltatori ma insomma un po' come facciamo noi e alla fine hanno scelto le sette meraviglie del mondo successive alle vecchie sette e qui tra i vincitori c'è il Colosseo peccato che a quanto pare l'azienda che ha fatto questa cosa è un'azienda che l'ha fatto a scopo di lucro lanciando varie forme di promozione pubblicitaria e guadagnandoci un sacco di soldi insomma quindi è leggermente meno nobile rispetto alla lista antica su cui credo che non ci fossero sponsor ecco diciamo c'è una curiosità divertente che arriva anche questa dalla newsletter di Intesa San Paolo da parte di Patrizia Patrizia si domanda visto che le favole dell'ottocento e novecento sono ambientate generalmente nel medioevo castelli principi principesse eccetera quali favole venivano raccontate per meravigliare i bambini nel medioevo? e devo dire che questa domanda potrò rispondere solo parzialmente la vita dei bambini del medioevo è una cosa che a me ha sempre interessato molto così come interessava Chiara Frugoni e andando a cercare si trovano tante informazioni sulla vita dei bambini sui giochi dei bambini mai tante quanto vorremmo averne però ecco sui giochi dei bambini ci sono delle cose meravigliose capite i bambini sono una cosa interessantissima perché il bambino quando nasce non è il bambino che nasce adesso non è ancora un essere umano del ventunesimo secolo è un essere umano come dire tabula rasa poi tutto quello che noi gli insegniamo ne fa un essere umano del ventunesimo secolo ma ci mette qualche anno per allinearsi pienamente con la mente quindi voglio dire che un bambino che sta appena imparando a parlare io sono abbastanza convinto che non è diverso non granché da un bambino che stava appena iniziando a parlare nell'anno 1000 poi più cosa impara e più ovviamente appartiene alla sua epoca quindi nei bambini c'è come dire qualche cosa che ci può permettere di immaginare che fossero molto simili anche nel passato o se volete i bambini di oggi sotto certi aspetti sono simili a quelli per esempio del medioevo in un modo talmente evidente che non ci riflettiamo mai si va al mare si gioca con la sabbia paletta e secchiello il bambino del ventunesimo secolo naturalmente costruisce grattacieli svincoli autostradali l'opera di Sydney cosa costruisce? castelli il bambino costruisce castelli perché è dal medioevo che i bambini quando hanno della sabbia costruiscono castelli e questo noi lo sappiamo lo sappiamo perché c'è almeno una vita di un santo del dodicesimo secolo che dice che era santo e si capiva fin da bambino che era santo perché quando giocava con la sabbia mentre gli altri bambini costruivano castelli lui costruiva chiese però capite gli altri bambini costruivano castelli cioè gli edifici che loro vedevano intorno a sé e da una stagione da un'estate all'altra per mille anni i bambini hanno insegnato ai bambini più piccoli di un anno che con la sabbia si costruiscono castelli e quello non si sradica in nessun modo le favole invece io personalmente non ho mai trovato indicazioni precise ecco gli adulti se ne interessavano le favole sono un genere letterario ma nel medioevo erano le favole tipo quelle di Esopo di Fedro avete presente la volpe l'uva le favole di animali mentre invece le favole che sono state poi raccolte nell'età moderna da Perrault dai fratelli Grimm che sono certamente molto più antiche però io personalmente non ho cognizione che sia state trovate proprio già testi medievali che le presentavano poi però certi aspetti del mondo delle nostre fiabe indubbiamente c'erano già nel medioevo anzi le hanno inventati loro le fate la letteratura cavalleresca medievale è popolata di fate che sono una cosa che nell'antichità non c'era per carità c'erano le ninfe dei boschi le ninfe delle acque ci sarà magari anche una continuità ma le fate sono un'altra cosa e sono naturalmente una cosa che poi noi abbiamo un po' come dire avvilito la fatina buona ecco le fate medievali non sono la fatina buona le fate medievali sono quelle di certe fiabe che conosciamo anche noi oggi è nata una bambina sono arrivate tutte le vicine fra cui una fata e tutte hanno fatto il loro regalo e la fata è stata servita per ultima al banchetto del battesimo ecco il mio regalo la prima volta che qualcuno ti bacerà ti addormenterai mi spiego quel genere di cose lì quindi le fate insomma le fate c'erano e indubbiamente le ha inventate il medioevo e ce le ha tramandate ma non sono così sicuro che le raccontassero ai bambini queste storie perché così come gli adulti se Dio vuole giocavano loro a mosca cieca è possibile che si raccontassero loro anche i racconti delle fate e il tempo è scaduto Barbero chat GPT 10 a 0 palla al centro siete d'accordo no? va bene va bene permettetemi oltre oltre a ringraziare il professor Barbero che ha dato prova di una capacità perché io li vedo i suoi appunti in realtà ci sono tre righe quindi però io vorrei ricordare anche Federica Francesco e tutto lo staff di Intesa San Paolo NER per il podcast così come tutte le persone di Intesa San Paolo NER che hanno organizzato questo evento e poi ovviamente dal punto di vista dalla parte di Cora oltre a Mario che è qui e ci ha salutato Lia Rosella Anna di Cora Storia collaboratrici con cui tutti i giorni lavoriamo a questo e a molti altri podcast che spero ascolterete e naturalmente tutte le amiche e gli amici di Cora Media a Roma e a Milano che permettono il nostro lavoro quotidianamente grazie a tutti anche da parte mia buona sera a tutti grazie buonasera 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 come state?